Siamo a Volandia con Sonia Milani per il villaggio del Crenci che sarà aperto tutti i sabati e le domeniche fino a fine dicembre. Come è strutturata l'iniziativa? Innanzitutto grazie per l'ospitalità presso la vostra testata. La nostra iniziativa prevede un villaggio di Natale a 360 gradi. Per cui per qualsiasi famiglia accederà al villaggio ci sarà il trucca bimbi, tre laboratori creativi di cui uno è sempre un evento speciale, la visita alla casetta di Babbo Natale e lo spettacolo di magia tutti i giorni alle 16.30. In più ci saranno tre incontri per la cioccolata con il Grinch, quindi l'irriverente personaggio legato al Natale che tra poco vedremo uscire nei cinema, che vi ospiterà qui nella sua casa, berrete una cioccolata insieme a lui, potrete scattare delle fotografie e divertirvi parecchio. Gli orari in cui sarete qui nel fine settimana? Il villaggio è aperto sempre dalle 10.30 alle 17.30. Si accede con un contributo di 8 euro per i bambini, 3 euro per gli adulti che consumeranno la cioccolata. Qualora si volesse escludere la cioccolata con il Grinch, costerà 5 euro a bambino. Ecco, se dovessimo lanciare un invito a venire a trovarvi? Secondo me l'invito migliore lo potete leggere sulla pagina Facebook Il Villaggio del Grinch a Volandia, dove troverete anche le suggestioni di chi è stato a trovarci ieri come prima giornata e le oltre 7.800 persone che stanno visitando la pagina dando un pochino di feedback su questa iniziativa. Secondo me è un'iniziativa sicuramente originale, abbiamo puntato sul Grinch, pur avendo Babbo Natale in carne ed ossa nella sua casetta all'esterno, per fare anche qualcosa di nuovo. è legato alla famiglia, perché comunque c'è la contrapposizione tra chi vive a pieno lo spirito natalizio e chi è un po' restio ma alla fine cede. Essendo ovviamente al villaggio del Grinch non potevamo non fermare il padrone di casa. Grinch ci lanci un saluto ai bambini e un invito a venire a trovarti? E va bene, farò questa cosa qua, quindi saluto tutti i bambini e le loro famiglie e invito tutti loro a venirmi a trovare a Volandia, al villaggio del Grinch. Vi aspetto! E dopo il Grinch non poteva mancare un'altra persona che vuole salutare tutti i bambini e dare loro l'invito a venirlo a trovare. Saluto da Babbo Natale a tutti i bambini. Vi aspetto numerosi! Grazie a tutti i bambini!